In SES mi occupo della parte di rilievo di tutte quelle che sono le nostre infrastrutture che poi vengono inserite all'interno di una banca dati. L'aspetto che più mi piace è il fatto che c'è sia una parte in ufficio sia una parte sul terreno. Ciò che mi ha spinto a scegliere l'iniziere era proprio il fatto che comunque appunto siamo anche all'esterno, giriamo gran parte del territorio, c'è una parte di rilievo anche di precisione che è quello che a me piaceva e di disegno. Una mia giornata tipo è ad esempio magari la mattina in ufficio dove riporto quello che sono gli ultimi lavori svolti che siano i miei rilievi o magari un tiraggio cavo delle squadre e magari al pomeriggio vado a fare quello che è il rilievo proprio sul cantiere quindi il giro in base a dove so che ci sono i campieri e più o meno 50 e 50. Grazie a tutti.